E sta vagando per la orgiunta meta Cosa sta facendo? Mangi Ci potrebbero essere di mascalzoni che lo rubano Ma cosa stai mangiando quel cornetto alla Nutella? Sbora di cammello Ma quello è un cornetto e c'è la Nutella Paralmente un schifo da che fa fredda e tu si è congelato a tutto Comunque CiccioGamer non direbbe questo, direbbe A cui non è matata ragazzi, quel vostro CiccioGamer è tantano No, rimanga lì, rimanga lì Guardate un esemplare di deficiente alla sua massima potenza Le sette e mezza Se ce la fai lanciarla lì dentro ti do un pugno Se non lo fai ti do un pugno comunque Vabbè Oh morolo Ospisciali, ospisciali Vadi, vadi, vadi Ospisciali dei 200 iscritti nel canale di Ale Ehi, che bello È lì Aspetta, ingrandisco Non posso ingrandirlo perché è modalità tripad Guardi quant'e euro tra mangio Ti do 10 centesimi Diviso 10 euro Non trova initti Vada, vada, vada Stres- Rrrrroa rrrroa rrrroa rrrro a rrrrroa rrrro b Rio Passi sulle strisce pedonali testa di migdia Di là non ci sono strisce pedonali fino a Santa di quando ci sono strisce pedonali fino ad adesso oh fia trolle zitto sei una bumba quindi non hai il nome mi inghione mi inghione allora si si ma cos'è dico dio buono merda perché mi voglio merda merda guardate un coglione ma hai fatto il giro lungo sta testa di minchia ma sei mongolo ma ti sei fatto il giro lungo dal cartello bello hai tagliato da qualcosa lì hai fatto un taglio di strisce che cazzo ma è per youtube si iscrivetevi al canale e lasciate l'acqua non si chiedono a 2011 lo sai vabbè vabbè lui è drogato non ci potrei fare niente Giacomo ma mangia la miraccia lì no niente mi viene canto cosa mi fa dico vabbè 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 iscriviti solo l'8% di voi è iscritto veramente guarda i video iscrivetevi saluto testa di media ciao sembri un tossico dalla fedale